Musica Ben trovati dal puntamento con detto il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana, un focus sul 27 gennaio del 2023, il giorno della memoria, si celebra in tutta Italia, ricordo della data in cui furono abbattuti i cancelli dal campo di Spenninio di Auschwitz nel 1945, è stato istituito con la legge 211 del 2000 e anche la Toscana non ha dimenticato con tre appuntamenti che approfondiremo in questo nostro incontro. Si parte dal teatro della Compagnia di Firenze, un'iniziativa di giovanissì la memoria contro l'indifferenza con tanti ragazzi appunto in teatro. E poi il perfetto di Firenze ha consegnato la medaglia d'onore ai familiari dei deportati e internati nei campi di concentramento e deceduti. C'è stata poi la seduta solenne del consiglio regionale della Toscana presso il Museo della Deportazione e Resistenza che ha sede a Filline di Prato. La partecipazione in presenza di Tatiana Bucci e Lidia Maximovics segna per l'iniziativa promossa dalla regione toscana Giovanni Silari scoperta della dimensione del vivo della testimonianza di sopravvissute e sopravvissuti all'orrore dello sterminio e quindi c'è stato un appuntamento dedicato ai giovani al teatro della Compagnia. Io ritengo che oggi la presenza di Tatiana Bucci dimostri quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria, del momento più drammatico che l'umiltà ha vissuto. Quando si sterminavano per motivi etnici, religiosi, raziali, persone assolutamente innocenti e prive di qualsiasi profilo di responsabilità. È il nazismo e il fascismo che ci ha portato a questo e del nazismo e del fascismo dobbiamo tutti stare assolutamente lontani, non solo dai valori e dalle idee, questo è pleonastico e scontato, ma anche da quei meccanismi che poi con il populismo, il sovranismo possono portare ad assecondare valori che ci fanno scendere in quella china che appunto drammaticamente portò a quegli episodi che oggi noi cerchiamo di tenere vivi con la memoria perché non accadano mai più. La prima cosa che fanno, siamo separati uomini dalle donne e Mengele che era sempre presente quando arrivavano i convogli. Quella volta Andre e Dio ci assomigliavamo molto, ci ha scambiato per Gemelle, quindi è questo il motivo per il quale siamo scampate veramente. È stata la prima stella che ha vigilato su noi. Io penso che ancora di più oggi che i testimoni di quelle barbarie, di quelle violenze non ci sono più, compito delle istituzioni debba essere quello di diventare amplificatori di memoria, di fare in modo che quello che è accaduto non accada più, di parlare alle ragazze e ai ragazzi perché ognuno di loro può essere un vaccino contro l'indifferenza perché la memoria è fondamentale per conoscere, per comprendere, per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Dobbiamo salvaguardare e promuovere la memoria a partire dalle giovani generazioni perché questa per utilizzare il linguaggio della pandemia è il vaccino più potente che abbiamo contro il riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti. Ancora oggi purtroppo nel mondo, in Europa e anche nel nostro paese assistiamo a episodi di antisemitismo, xenofobia, razzismo, omofobia, discriminazioni di persone disabili, di persone che arrivano da altri paesi. Ecco di fronte a tutto questo, non possiamo abbassare la guardia, soprattutto dobbiamo imparare dal passato. Gli italiani di allora possono essere divisi però in tre categorie. I complici, molto attivi anche nelle loro uccisioni di italiani. Ricordiamo le strage di Saltana di Stasema, Padula di Fucesco in Toscana e poi Mazzarvorto, le fosse Ardiatina e tante altre. E furono molti di più di quanti si possa credere. I giusti, cioè coloro che invece si adoperarono per salvare vite umane dalla deportazione. Furono pochi, ma tanti perché agirono sapendo di rischiare la loro vita e quella dei loro familiari. E poi la maggioranza degli italiani che voltarono la faccia dall'altra parte. Furono cioè indifferenti. Alla fine delle mie interviste, delle mie presenze, dico sempre non odiate, non odiate, perché odiare vuol dire calpestare tutto quello che è bello e quello che è da amare. Il teatro della compagnia si trova in via Cavour, adiacente al palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Di fronte c'è il palazzo Medici Riccardi, sede della Prefettura di Firenze. Una cerimonia si è tenuta nel quale il prefetto ha consegnato le medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro 4 per l'economia di guerra e ai familiari dei deceduti. I familiari degli insigniti hanno ritirato la medaglia e appunto i deceduti sono Enrico Allocca, Giovanni Gori, Serafino Marmugi, Paolo Parrini, Ulisse Salvini. Un modo per ricordare ma è anche un modo per approfondire alcune storie, storie molto differenti da internati militari piuttosto che cittadini ebrei che sono stati deportati. La Shoah, l'Olocausto è stato uno dei crimini più grandi che la nostra storia moderna ha vissuto e noi non dobbiamo dimenticare. Le parole della senatrice Segre devono essere per noi un punto di riferimento. Il rischio è che se non ricordiamo si finisca nell'oblio. È un'occasione per raccontare ciò che è stato in negativo ma anche ciò che come ha giustamente ricordato il nostro rabbino capo ha determinato delle luci, persone che hanno saputo dire di no, che hanno quindi usato il cervello, la cultura, l'etica e non si sono girati dall'altra parte. A questo serve la giornata della memoria, a capire che dobbiamo essere sempre critici con noi stessi e a non voltarci mai dall'altra parte. Ci fu per pesato l'assassino di milioni di persone ebrei, omosessuali, oppositori politici, malati di mente. Furono internati anche persone italiane che non avevano abbassato la testa, persone che avevano servito il loro paese ma che poi si sono anche resi conto che non era possibile continuare in quel modo. Quindi veramente onore al merito ed è giustissimo la consiglia della medaglia. Mio nonno era piuttosto reticente nel parlare del vissuto personale oltre ad assolvere chiaramente il dovere documentariale dei fatti oggettivi della guerra. Quindi ricordo qualche frammento, il primo positivo di un generale tedesco che in una situazione particolare gli ha concesso una parte della razione e poi ricordo un piccolo flash di un suo racconto sulla sensazione di terrore e dilaneazione interna dovuta ad assistere al bombardamento di Dresa da una cima di una collina disteso guardando il cielo e si illuminava ripetutamente a giorno non per i baleni di un temporale ma perché la città veniva rasa al suolo. Quindi questo grande senso di impotenza. Credo che di fondo volesse di fatto mandare il messaggio e dopo aver visto veramente la degenerazione della natura umana di cosa è capace l'uomo in certe circostanze in negativo è così anche necessario far sfumare una parte dei ricordi più brutti per riacquistare fiducia nelle infinite potenzialità e bellezze dell'animo umano e quindi poter ricostruire un futuro e non rimanere alienati nella trappola della guerra. Quindi diciamo vincere ecco la guerra non sopravvivendole ma riprendendo a vivere. Io questo penso sia il messaggio maggiore che mi ha lasciato. Un luogo diverso ogni anno simbolo della Toscana per essere vaccino contro l'oblio per non dimenticare per essere amplificatori di memoria. Queste sono state le parole del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha aperto la seduta solenne per il giorno della memoria che non si è tenuta però nel Palazzo del Pegaso ma al Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato e lancia questo impegno di celebrare ogni anno la giornata della memoria fuori dal palazzo. Questa è una regione dove abbiamo vissuto drammaticamente ciò che significa nazifascismo, repressione, discriminazione e atrocità da un punto di vista etnico, religioso, razziale e quello che è significativo è che proprio qui a Figline di Prato dove si sono consumati eccidi gravissimi che hanno caratterizzato quanto la libertà sia costata alla Toscana. Figline di Prato come Sant'Anna di Stazema, come il Padule di Fuscecchio, come Civitella. Ecco tutto questo dà il senso di una trasmissione di memoria ai nostri giovani perché le nuove generazioni non cancellino mai, nonostante il passare del tempo, il senso del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, del momento in cui la civiltà umana è caduta più in basso perché non ci si possa nemmeno avvicinare ai presupposti che portarono allora a vedere 6 milioni e mezzo di ebrei uccisi, 47 milioni di persone morte nella Seconda Guerra Mondiale. Ci è sembrato il modo migliore per celebrare i 20 anni del museo che è stato fondato appunto grazie al volere della sezione ANED di Prato, i sopravvissuti agli arresti del marzo del 44 che hanno fortemente voluto che ci fosse un luogo fisico dove ricordare la deportazione dei propri concittadini pratesi, arrestati in oltre 150 ne tornarono solo 18. quindi è il modo giusto per rendere omaggio alla loro volontà e per riflettere sul ruolo che la memoria ha oggi. In effetti per noi è un grandissimo onore ospitare il Consiglio regionale della Toscana nella sua seduta solenne per il giorno della memoria. È un onore, un piacere a dimostrazione del fatto che il nostro museo, un po' periferico, qua su a figline di Prato, ma è un museo di rilevanza regionale. Infatti sono anni, già molti anni, che lavoriamo con e per la regione toscana. Abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. E' compito nostro delle istituzioni fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze, i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. E finisco, noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza, perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie, in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile, ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i pratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio nella città di Ebense e in questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza. È giusto avere la memoria per legge, ma la memoria dobbiamo averla tutti i giorni, ad iniziare dai rappresentanti dell'istituzione e tutti i cittadini, per contrastare ogni episodio, anche piccolo, di violenza, di sopraffazione, di razzismo, di antisemitismo, di intolleranza. Questo è sicuramente il miglior modo per rendere omaggio e onore a tutti quelli che hanno perso la vita combattendo e nei campi di concentramento. Credo che veramente noi dobbiamo impegnarci tutti i giorni e di più per essere operatori di pace. È dovere del Consiglio regionale della Toscana fermarsi per provare tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore, l'antisemitismo, le leggi razziali. Ovviamente in questo momento, in questo contesto storico così delicato in Europa, dove la guerra in Ucraina ha riportato degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia, da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione, di antisemitismo, ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro, ogni guerra nel contempo. Stringe la nostra comunità agli ebrei, a una comunità che ha lottato, che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso un riscatto. La possibilità che la Toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione e compito di tutte le istituzioni indipendentemente dalla nostra provenienza, dalla nostra partecipazione e da iniziative politiche di parte. Il palazzo si deve aprire, si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consigliatura. Ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta. Così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz, un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere. È stato per me determinante, un'esperienza che, dicevo oggi, presso una scuola retina dovrebbe essere istituzionalizzata. Penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi, la violenza e la dittatura devono essere bandite, deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata. Dovremmo tutti i giorni, noi che facciamo parte delle istituzioni, alzarci e improntare il nostro agire al bene comune, ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. Siamo in un'epoca adesso, stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare, perché quello che è successo durante la Shoah, quello che è successo al popolo ebraico non si ripeta più, nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia. Ecco, questo è il nostro dovere, lo abbiamo come cittadini, lo abbiamo come istituzioni, lo abbiamo nei confronti dei nostri giovani che devono essere in grado di capire ciò che è accaduto e soprattutto devono essere in grado di riconoscere all'interno della società in cui essi vivono quei germi che possano dar luogo di nuovo a dei rigurgiti, se non uguali, analoghi a quelli che hanno sporcato la storia dell'umanità. Quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia, non ci deve mai essere vergogna, ma dobbiamo sempre avere il coraggio di fare conti con la nostra storia, di fare conti con il nostro passato affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi, possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Quindi non c'è vergogna a rileggere il passato. E abbiamo cercato in questi pochi minuti di raccontarvi quanto è stata importante la giornata della memoria per questo 27 gennaio del 2023. Per tutti gli approfondimenti, ve lo ricordo c'è il sito inter www.inconsiglio.it Grazie per essere stati con noi. Vi aspetto tra sette giorni, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie per essere stati con noi.